Ciao ragazzi, mi trovo qui con il grandissimo Nicola Gullotto, bassista fenomenale, e stiamo andando da Milano in direzione Imola al Teatro Stignani per una serata di commemorazione di Freddie Mercury e dei Queen, organizzata dalla Brighton Rock Events, ovvero Queen a Rendezvous e di opera. Suoneremo con l'orchestra Sarsum Chorda di Bologna, diretta dal maestro Barbara Malfredini, e siamo veramente ansiosi di salire su questo prestigioso palcoscenico. A dopo! Bene ragazzi, siamo arrivati in perfetto orario qui al Teatro Stignani, il palcoscenico è ancora in fase di allestimento, all'opera tecnici e membri dello staff, questo evento nasce dall'idea di Barbara Mucci e Riccardo Nudi della Brighton Rock Events, e si preannuncia davvero una memorabile serata in onore di Freddie Mercury, guardate qui questo splendido teatro, qualche cenno storico, il teatro nasce nel 1812 grazie a un'idea dell'architetto Giuseppe Magistretti che trasforma un edificio di culto in un luogo dedicato agli spettacoli, ha 468 posti, 162 dei quali in platea, ed è il tutto impreziosito da decorazioni pittoriche in stile neoclassico. Qui abbiamo le spie, la mia strumentazione, ancora da montare, le chitarre sono sul retro, stasera mi affiderò la mia adorata Carpinteri, questo è il posto del direttore dell'orchestra, e qui siederà l'orchestra, guardate che meraviglia, un palcoscenico immenso, ma guardate questo pianoforte, uno standway, richiesto appositamente da Riccardo Nudi, guardate è veramente un strumento meraviglioso, vale credo attorno ai 90.000 euro, io non lo so suonare, ma sicuramente Alessio Terrinoni saprà dominarlo. L'orchestra è già all'opera, diretta dal maestro Barbara Manfredini che ha persino scritto tutte le partiture della serata, bravissimi, guardate Alessio Tucci alla voce, Massimo Rotondo alla chitarra, Massimo è l'ideatore del gruppo Facebook Scimmia la chitarra, che conta più di 5.000 iscritti, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, pensate che Massimo è un amante del valvolare, usa solo Vox quando suoni qui, e stasera sono felicissimo perché l'ho convinto dopo delle prove ad utilizzare la mia Line 6 Enix, ne vedremo delle belle, intanto buschiamoci la sua bellissima red special bianca, particolarissima, vai Max! Le prove continuano, mi sono spostato un po' per gustarmi un po' più da lontano questo splendido palcoscenico, pensate alto 12 metri facciamo una panoramica, stasera i 468 posti saranno quasi tutti occupati, più di 400 i biglietti venduti, guardate veramente che meraviglia questo posto, ragazzi stare qua dentro è qualcosa di magico, non immagino stasera quando imparcerò la mia red special meraviglia il blu Alessandro Stucchi, cantante dei Magic Queen, grandissima tribute band con all'area di special il mio amico Stefano Ragazzini milenisti bravissimi, come tutta l'orchestra e ora parlando di musicisti gravidosi abbiamo qui Nicola allora com'è? dai, stasera alla grande, alla grande è un spettacolo unico per il suo genere dove la musica sinfonica incontra e si fonda con la musica rock per omaggiare in grande stile le opere di Freddie Verboli e dei Queen grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.